Ho ricevuto la risposta del commissario europeo Borg sull'uso della stamina e sono orgoglioso della risposta perché rende chiaro questo scontro tra gli scienziati che continuano a dire che sono pratiche pericolose e impraticabili mentre il governo italiano in primis con il decreto Balduzzi cerca di portare avanti questa pratica e rendere chi vuole adottabile l'uso di medicinale con stamina. Il commissario si è espresso proprio a favore di questo decreto Balduzzi e quindi chi vorrà potrà in ambito ospedaliero utilizzare e praticare pratiche con medicinali a base di staminali. C'è un esempio eclatante che viene dalla mia toscana che è stato ripreso anche dalla trasmissione Le Iene in cui la piccola Sofia, gravemente malata, ha utilizzato questa pratica, la pratica della stamina e si sono visti risultati positivi, migliorativi e adesso la bimba che prima non muoveva nessuna parte del corpo adesso ha iniziato a muovere le dita dei piedi. E' già qualcosa e forse è la prova che questa pratica veramente può rivoluzionare in modo di guarire, di curare i bambini. Chissà, forse è veramente una cosa definitiva, importante, però noi dobbiamo dare speranza ai bambini e ai malati.